Ciao a tutti, buon pomeriggio, mi trovate in questo nuovo video. Vi prendo un caffè assieme a voi e faccio quattro chiacchiere. Ho avuto un ritorno di fiamma. Ce lo dimostra la candela e anche il caffè che è caldo. Vabbè. Ho avuto un ritorno di fiamma. Voi vi chiederete di che cosa sto parlando. In un periodo così pieno di informazioni, del quale siamo continuamente bombardati da notizie, video, messaggi, note vocali, ho avuto un'idea. Ho comprato un telefono Nokia GSM, meraviglioso. Soli 40 euro, preso su un noto sito, che tutti quanti conosciamo, che vende al dettaglio, la risoluzione di tutti i problemi, per ritornare a una comunicazione un po' più immediata ed essenziale, senza, diciamo, video, foto, note vocali e anche cose che ci danno l'obbligo di rispondere subito, quando in realtà ci sono molte conversazioni che si potrebbero evitare se si tornasse a questo telefono. Io mi sento felicissimo e da oggi in poi cercherò di usarlo il più possibile. Ciao! Ciao!